Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, le voci del mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i cinque finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale, le voci del mare. Non mancate!